Allora cari figlioli, video dedicato a chi vuole giocare nel server online ma sta riscontrando problemi per trovarlo o entrarci. Al di là di poter inserire l'indirizzo IP all'interno di Steam cliccando su visualizza server, aggiungi server per poi inserire l'IP, io consiglio all'interno di ARK di andare in entra in ARK, andare in filtro sessione e scegliere server non ufficiale perché se doveste cercarlo negli altri server tra cui quelli ufficiali probabilmente non vi uscirà mai, quindi cerchiamo sul non ufficiale, qui nella input box che in questo caso è sovrascritta dal testo un po' fatto a cavolo, scriviamo la resistenza, ecco qua e dopo pochi secondi ci compare il server in cui stiamo giocando noi. A questo punto potete o entrare in partita o meglio ancora aggiungi ai preferiti, in entrambi casi quando poi ritornerete in una volta successiva in ARK potrete sempre scegliere attraverso il filtro sessione i miei sopravvissuti che vi mostrerà gli ultimi server in cui siete entrati o meglio ancora nei preferiti se l'avete messo nei preferiti, in questo modo il server in oggetto sarà sempre visualizzato in questa pagina. Ci cliccate sopra e andate su entra e il gioco è fatto figlioli, fatemi sapere se avete ancora problemi o se avete risolto, ricordatevi che potete anche entrare nel discord dell'admin per poter fare tutte le domande che volete e non rompere i coglioni, eeeh voglio dire non fare domande sempre a me, ma se volete sotto in descrizione potete sempre fare le vostre domande. Ciao a tutti!